Dopo lo scandalo sui passi invalidi, il comune di Bologna taglia il numero di targhe abbinate ad ogni contrassegno. Da 10 si scenderà a 2. Per l'amministrazione la colpa non è del comune, ma di cittadini disonesti e medici poco scrupolosi. Una decina di pacchetti regalo, con scritte contro il governo, la manovra e le banche hanno fatto scattare un falso allarme bomba questa mattina davanti all'albero di Natale di Piazza Nettuno. Sono intervenuti gli artificieri. Parte in questi giorni una campagna antitruffe organizzata da Questura, Comune e Sindacati. Previsti incontri nei quartieri e luoghi di aggregazione per prevenire questo tipo di reato. Cresce la produzione agraria nelle campagne dell'Emilia-Romagna, ma i redditi delle aziende sono in rosso. Lo dice Coldiretti, che spiega all'origine delle sofferenze ci sono soprattutto i costi di produzione. Due lievi scosse di terremoto alle prime ore di questa mattina sulla Pennino bolognese epicentro tra Lizzano in Belvedere e Granaglione, con magnitudo 2,6 gradi. Nessun danno a persone e cose. Buonasera a tutti, l'avete sentito dai titoli, il Comune di Bologna taglia i pass per gli invalidi. Dopo le polemiche e gli scandali anche dei mesi scorsi, l'amministrazione comunale ha deciso di ridurre drasticamente il numero delle targhe abbinate ad ogni contrassegno. Allora, andiamo a sentire i dettagli con Massimo Ricci. Stop all'abuso dei pass invalidi a Bologna. Il Comune ha deciso che per ogni disabile certificato saranno abbinate solo una o due targhe di automobili e non dieci, come prevede l'attuale normativa. Palazzo da Cursio sceglie così di mettere finalmente mano all'imbarazzante questione dell'abuso dei pass per invalidi. Lo scandalo è scoppiato nell'aprile scorso, quando alcuni giocatori del Bologna Calcio furono pizzicati a utilizzare impropriamente i contrassegni handicap. Pochi giorni fa poi è emerso anche il caso di un rinnovo illegittimo di un pass temporaneo. Con un comunicato firmato dall'assessore al traffico, Andrea Colombo, e dal direttore del settore mobilità, Cleto Carlini, l'amministrazione si discolpa e punta il dito sui cittadini che chiedono di certificare una disabilità inesistente e sui medici che certificano la permanenza della disabilità senza ulteriori approfondimenti. Ci sono casi, infatti, in cui l'invalidità può essere di carattere temporaneo. Per mettere fine al malcostume sarà creata una banca dati regionale che permetterà di collegare tutti i contrassegni all'anagrafe dei diversi comuni, eliminando in tempo reale quelli assegnati a persone decedute. E poi, come detto, il taglio del numero di automobili abbinati ad ogni contrassegno invalidi, da 10 a 2. È vero che la media attualmente è di 2,8 targhe per ogni contrassegno, ma 10 erano obiettivamente troppe. Dovere di un'amministrazione è anche limitare quelle occasioni che, come dice il saggio, rendono l'uomo ladro. Una decina di pacchetti regalo con scritte contro il governo, la manovra e le banche hanno fatto scattare un falso allarme bomba nelle prime ore di questa mattina davanti all'albero di Natale allestito in piazza Nettuno. A notare le scatole è stato un poliziotto di quartiere che si è insospettito e avvertito la centrale operativa. Sono stati fatti intervenire gli artificieri e l'area intorno all'albero è stata transennata e isolata. A quanto sembra, sui pacchetti c'erano varie scritte, Giovani Italia, No al governo delle banche, oltre a riferimenti a ICI e IMU, ma all'interno non c'era nulla. Sotto l'albero era stato anche sistemato un piccolo fantoccio con la scritta BCE e il cuore trafitto da una spada. Ultimate le verifiche, la situazione in piazza è poi rapidamente tornata alla normalità. Molto spesso, come sapete, vi raccontiamo episodi di truffe e danni di anziani. Ebbene, in questi giorni il Comune di Bologna, la Questura, insieme alle associazioni, ai sindacati, dei pensionati, hanno lanciato una campagna proprio per tentare di prevenire questo reato. Sentiamo Federico Balletti. Mettere in guardia gli anziani, creare una rete di solidarietà e di ascolto intorno a loro, ma anche fare un po' paura ai truffatori, che per fortuna non sempre riescono a farla franca. Sono gli ingredienti di una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione, lanciata dalla Polizia e dal Comune di Bologna, insieme ai quartieri e a tutti i sindacati dei pensionati, per difendersi dalle truffe. Un reato odioso, come lo ha definito il questore Vincenzo Stingone, che negli ultimi anni nella nostra città è in calo e si è praticamente dimezzato dal 2008 ad oggi, ma per il quale c'è ancora molto da fare. È proprio una gara di solidarietà, quindi con l'aiuto dei sindacati, del Comune, delle parrocchie, delle associazioni, dobbiamo fare, come si suol dire, squadra. Una grande gara di solidarietà, di far sentire la nostra presenza, la presenza dei cittadini, cioè arrivare questi consigli che noi vogliamo dare agli anziani e non solo, di fare arrivare questo messaggio anche ai cittadini, di ascoltare di più gli anziani, in una parola di essere un pochino più vicini. Essere più vicini significa fare molta prevenzione. È un reato odiosissimo che sembra, viene a volte percepito come un reato minore, non lo è. Il progetto prevede la distribuzione di 5.000 opuscoli e una serie di incontri nelle sedi dei quartieri, nei centri anziani, nelle parrocchie. I funzionari della squadra mobile daranno consigli per non cadere nei raggiri, ma ci saranno anche i medici della polizia per fornire un supporto psicologico a chi resta vittima di queste truffe. Questo è l'aspetto forse più degradante di queste cose, perché le persone anziane sono colpite nei beni materiali, e questo colpisce, ma sono colpite molto anche nella percezione di se stessi. Capire di essere stati truffati, a volte con delle scuse davvero risibili, di mettere in serie difficoltà anche psicologiche. Credo che sia molto importante questa iniziativa di oggi. Il primo consiglio quando si ha qualcosa di sospetto è di chiamare il 113. Devo dire che la questura è molto sensibile su questo e le battuglie le manda. Un reato odioso, lei diceva nessuna indulgenza verso questi truffatori, però forse un reato punito in maniera non sufficientemente pesante. Siamo assolutamente d'accordo, nessuna indulgenza per questi tipi di reati, perché sono reati gravissimi. È un fenomeno che bisogna punire con particolare, a mio parere, severità. Torniamo a parlare del blitz di ieri sera da parte degli insolventi ai danni della COP del centro Meraville. Al momento non sono state sport e denunce, però la questura sta verificando che non siano stati commessi reati. Gabriele Sciarra. L'autorità giudiziaria sta ora valutando se siano stati commessi reati e anche se fino ad oggi la COP non ha sport o denuncia i fatti. Verso le 18 di ieri sera, come vediamo da queste immagini, tratte dal sito Il Fatto Quotidiano, una settantina di aderenti al collettivo degli insolventi hanno effettuato acquisti presso il supermercato COP del centro Meraville, quartiere San Donato. Poi si sono messi in fila alla cassa, pretendendo uno sconto del 23% pari all'IVA sui prodotti. Questo per protestare contro la manovra Monti-Tremonti che ha di recente elevato le aliquote. Non un vero e sproprio e neppure un'autoriduzione, hanno detto gli insolventi, piuttosto alla richiesta di uno sconto contro la politica di governo. Naturalmente le casse nella domenica che precedeva il Natale sono andate in tilt e mentre anche qualche normale avventore, secondo qualcuno, si accodava alla protesta dei giovani, davanti al supermercato cominciavano ad affluire le forze dell'ordine. A questo punto, fatti defluire i normali clienti, sono state chiuse le porte del supermercato e i giovani sono stati fatti uscire uno ad uno e una volta sulla porta identificati da polizia e carabinieri. I ragazzi sono gli ex occupanti del cinema Arcobaleno. L'autorità giudiziaria sta ora valutando se e quali reati sono stati commessi. Intanto è arrivata una nota di Coppa Adriatica che parla di gravi danni, però dice che per questa volta non presenterà denuncia. La prossima invece sì, perché si tratta di una forma di protesta inaccettabile, così in una nota il presidente di Coppa Adriatica, Adriano Turrini. Due lieviscosse sismiche sono state registrate in provincia di Bologna, tra Emilia Romagna e Toscana. La località prossima all'epicentro sono state Granaglione e Lizzano in Belvedere. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il primo evento sismico si è verificato alle 4.42 con magnitudo di 2,6 gradi, mentre il secondo è stato alle 5.13 con magnitudo di 2,2. Non si sono registrati comunque danni a cose o persone. Il capo di gabinetto del comune di Bologna, Marco Lombardelli, finito al centro delle polemiche per l'inquadramento contrattuale che prevede il conseguimento della laurea, ha deciso di dimettersi. Lo annuncia in una nota lo stesso Lombardelli. Le notizie di questi giorni, inerenti il mio ruolo all'interno dell'amministrazione comunale, scrive in una nota, hanno segnato irreparabilmente la serenità per svolgere al meglio un compito così delicato come quello di responsabile di gabinetto del sindaco. Secondo alcuni, il Democratico era stato contrattualizzato in modo illegittimo ed erano stati annunciati ricorsi alla Corte dei Conti. Cambiamo argomento. Cresce la produzione, ma le aziende hanno i conti in rosso. Questo, in sostanza, è il bilancio dell'annata dell'agricoltura delle campagne emiliano-romagnole, secondo le prime stime della Coldiretti. Allora, sentiamo Mauro Tonello, Presidente dell'Associazione Emiliano-Romagnola, al microfono di Giuseppe Piloni. Ecco, Presidente Tonello, qual è il bilancio di quest'anno per quanto riguarda la produzione agricola? Per quel che riguarda la produzione, è un bilancio tutto sommato buono perché in tantissimi casi abbiamo avuto la soddisfazione in termini quantitativi e qualitativi di produrre ottimamente, quindi più quintali, più qualità, penso soprattutto al vino e anche alla nostra frutta. Purtroppo il bilancio si chiude in maniera negativa perché a maggior produzione che è stata esibita poi sui mercati ha, dall'altra parte, risposto dei prezzi che in tanti casi, soprattutto per alcuni comparti, ortofrutta in primis, sono stati al di sotto dei costi di produzione. È purtroppo un fortissimo aumento dei costi di produzione. Siamo passati da poco più dei 50 centesimi del costo del gasolio per la nostra attività oggi a 80 centesimi, quindi questo ha compromesso i segni in più dal punto di vista quantitativo e anche in qualche caso quei piccoli segni in più anche dal punto di vista dei prezzi che ci sono stati sui nostri beni. Quindi è un'annata che purtroppo è da dimenticare da questo punto di vista. Quindi quest'anno le aziende agricole chiudono in rosso? Le aziende agricole quest'anno nella stragrande maggioranza chiudono in rosso. Qualche comparto ha avuto anche soddisfazione in qualche nicchia, in qualche produzione. Penso per esempio al comparto di alcuni formaggi nostri tipici, in primis il parmigiano reggiano, che dopo alcuni anni di sofferenza quest'anno almeno chiude un'annata in positivo. Ma purtroppo appunto i comparti che chiudono in positivo si raccontano in pochissime frasi. Nuova ondata di arresti sulla vicenda del calcio scommesse, tra cui Cristiano Doni, ex capitano dell'Atalanta. Le indagini hanno svelato l'esistenza di un gruppo criminale avente epicentro a Singapore e basi operative nell'est Europa, con l'obiettivo di alterare i risultati delle partite di calcio, anche dei campionati italiani. L'obiettivo era quello di lucrare in debiti profitti sulle scommesse relative ai match truccati. I calciatori sarebbero stati corrotti al fine di falsare i risultati delle gare su cui il gruppo avrebbe scommesso ingenti somme di denaro. Tra gli arrestati, il 36enne Luigi Sartor, che in passato ha militato nelle file della Juventus, Inter e Roma, iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Sartor è indicato come l'intermediario tra Beppe Signori e il mercato di Singapore. In poche parole, Sartor, che ha ammesso di conoscere Beppe Signori, sarebbe stato l'uomo che gestiva il denaro delle scommesse dei bolognesi. L'ex difensore è stato individuato in quel Gigi, che ricorre costantemente nelle intercettazioni che hanno portato alla luce per l'appunto lo scandalo del calcio scommesse. Due offerte di acquisto potrebbero salvare la piscina dello sterlino dalla chiusura. Lo sapete, questa è una vicenda che ormai tiene banco alla cronaca cittadina già da diversi mesi. Il CONI già domani potrebbe infatti scegliere quale accogliere. Intanto però il comune di Bologna si dice soddisfatto. Andiamo a vedere. Il CUSB, Centro Universitario Sportivo Bolognese e l'AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, hanno manifestato l'intenzione di acquistare la piscina dello sterlino a rischio chiusura. Le ha dato notizia il comune di Bologna per il quale entrambe gli interessati soddisferebbero le richieste di Palazzo d'Accursio. La prima riguarderebbe il contributo versato all'impianto dalle casse dell'amministrazione comunale ammontante a 680 mila euro. La seconda è il mantenimento dell'attività natatoria e corsistica e delle altre attività sportive. Entrambe le offerte inoltre permetterebbero di mantenere i costi calmerati per le attività natatorie con la promessa di una ristrutturazione per gradi dell'impianto per non compromettere le attività interne. Il comune è soddisfatto per l'affacciarsi di due potenziali acquirenti perché non aveva gli oltre 6 milioni di euro per rilevare dal CONI l'impianto e ristrutturarlo. Per questo si era adoperato per trovare degli acquirenti. Ora la palla passa al CONI che aveva dato tempo fino al 31 dicembre per le manifestazioni di interesse. La decisione potrebbe arrivare anche domani quando si unirà il consiglio di amministrazione del Comitato Olimpico per decidere se cedere l'impianto a uno dei due interessati o se prorogare i termini in attesa di altre offerte. Il Comitato contro il People Mover non va in ferie. Domani infatti stapperà bottiglie di sfumante sotto le finestre di Palazzo D'Accursio in polemica contro la mancata apertura della istruttoria pubblica sulla monorotaia che dovrà collegare come sapete la stazione all'aeroporto. Intanto invita la Regione a spendere diversamente i 27 milioni di euro stanziati. Hanno in programma un polemico brindisi natalizio per il prossimo martedì in Piazza Maggiore ma intanto il Comitato No People Mover lancia la proposta di dirottare i 27 milioni di euro stanziati dalla Regione per la monorotaia sul trasporto pubblico locale. Il collegamento stazione-aeroporto con la navetta sopraelevata è per il Comitato inutile per quasi tutti i cittadini bolognesi. Meglio quindi investire quei soldi sul trasporto pubblico locale che a basso costo a basso impatto e a bassa invasività permette gli spostamenti di tutti in particolare insistono i No People Mover con quei 27 milioni si potrebbero azzerare i recenti aumenti dei biglietti dei bus aumentati di recente appunto anche del 50% così come si potrebbero ripristinare linee e corse soppresse o per collegare i marconi alla stazione utilizzando i normali binari ferroviari. Il brindisi polemico di martedì sotto Palazzo da Cursio si terrà per consolare quei 3.700 cittadini che hanno firmato la richiesta di istruttoria pubblica sul People Mover poi negata dall'amministrazione Merola. Lo spumante avverte il comitato sarà aperto in concomitanza della seduta del Consiglio Comunale perché conclude polemicamente visti i precedenti starà lavorando per qualcun altro e non nell'interesse dei cittadini bolognesi. Una prima pausa pubblicitaria restate con noi perché gli argomenti sono ancora tanti. Di nuovo in studio con Etg prima di proseguire andiamo a vedere i titoli principali di oggi. Il primo riguarda il pass invalidi il comune di Bologna taglia il numero di targhe abbinate ad ogni contrassegno da 10 si scenderà a 2 per l'amministrazione la colpa non è del comune ma di cittadini disonesti e medici poco scrupolosi. Una decina di pacchetti regalo con scritte contro il governo la manovra e le banche hanno fatto scattare un falso allarme bomba questa mattina davanti all'albero di Natale di Piazza Nettuno sono intervenuti gli artificieli. Parte in questi giorni una campagna antitruffe organizzata dalla questura di Bologna comune e sindacati previsti incontri nei quartieri e luoghi di aggregazione per prevenire proprio questo tipo di reato. Cresce la produzione agraria nelle campagne dell'Emilia-Romagna però i redditi delle aziende sono in rosso lo dice Coldiretti che poi spiega all'origine delle sofferenze ci sono soprattutto i costi di produzione. due lievi scosse di terremoto alle prime ore di questa mattina sull'Appennino Bolognese epicentro tra Lizzano in Belvedere e Granaglione con manitudo di 2.6 nessun danno a persone o cose. E rientriamo in studio per parlare di teatro quello per i più piccoli perché fino a domani sera al Testoni Ragazzi andrà in scena andrando in scena le storie di Natale per sognare ad occhi aperti andiamo a vedere. Si avvicina il Natale anche al teatro Testoni Ragazzi che dal 19 al 21 dicembre avrà le storie per l'appunto di Natale per i bimbi sui tre anni indicativamente sui tre anni. Indicativamente sono storie vengono raccontate da degli elfi vengono portati i bambini all'interno di una piccola casa ovviamente una casa del Polo Nord piena di neve e vengono raccontate storie sul Natale provenienti da tutte le parti del mondo per aspettare insieme agli attori del teatro Testoni Ragazzi il Natale e viverne insieme alla magia. Quindi è un appuntamento fuori dall'ordinario perché non è uno spettacolo vero e proprio ma è un racconto fatto insieme a degli elfi nella loro casa mentre preparano i doni di Natale. Mancano pochi giorni a Natale e ormai i presepi vengono allestiti nelle scuole nelle case e anche nei luoghi simbolo della città alcuni di questi presepi hanno un elevato valore artistico sentiamo Massimo Ricci Anche quest'anno nella città di Bologna si rinnova in occasione del Natale la tradizione del presepe non solo espressione di fede e manifestazione popolare ma la rappresentazione della Natività può essere anche vera e propria opera d'arte come quella presente in questi giorni nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio si tratta del presepio di San Petronio di Luigi Enzo Mattei La terracotta che a Bologna ha assunto la dignità del marmo sin dai tempi di Nicolò Dall'Arca è di nuovo protagonista come i compianti in particolare mi riferisco all'Onofri che è in San Petronio e la terracotta Policroma in questo caso permette proprio di rendere viva presente partecipe a questa scena quello che voglio sottolineare è il rapporto l'intesa tra madre e figlio che è fondamentale anche sul piano teologico ma anche dal punto di vista figurativo iconografico in quanto è un'intesa speciale che dura dalla Natività sino alla morte anche i compianti hanno questo privilegio di notare il rapporto madre e figlio come privilegiato di grande interesse anche la mostra dei presepi inaugurata in prefettura che espone opere provenienti da ogni parte d'Italia dal Piemonte alla Sicilia tra questi anche il famoso presepe bianco il più grande realizzato negli ultimi 60 anni espressione della tradizione napoletana più a caratterizzazione locale invece il presepio dei commercianti visibile nella sede di Ascom con commercio in strada maggiore 23 oltre alla sacra famiglia e ai pastori sono raffigurati anche gli antichi e i nuovi mestieri e non mancano riferimenti alla città di Bologna ancora qualche minuto di nuovi studio con ETG c'è solamente il tempo per andare a rivedere i titoli principali di oggi in apertura lo scandalo sui pass invalidi il comune di Bologna taglia il numero di targhe abbinate ad ogni contrassegno da 10 si scenderà a 2 per l'amministrazione la colpa non è del comune ma di cittadini disonesti e medici poco scrupolosi una decina di pacchetti regalo con scritte contro il governo la manovra e le banche hanno fatto scattare un falso allarme bomba questa mattina davanti all'albero di Natale di Piazza Nettuno sono intervenuti gli artificieri parte in questi giorni una campagna antitruffe organizzata dalla questura di Bologna dal comune ma anche dai sindacati previsti incontri nei quartieri e luoghi di aggregazione proprio per prevenire questo tipo di reato cresce la produzione agraria nelle campagne dell'Emilia Romagna però i redditi delle aziende sono in rosso a dirlo è Coldiretti che poi spiega all'origine delle sofferenze ci sono soprattutto i costi di produzione due lieviscosse di terremoto alle prime ore di questa mattina sulla Pennino Bolognese epicentro tra Lizzano in Belvedere Granaglione con magnitudo di 2.6 nessun danno fortunatamente a persone o cose con i titoli è davvero tutto grazie per essere stati con noi una buona serata arrivederci grazie a tutti